benvenute e benvenuti questo che andiamo a vedere oggi è la presentazione dello studio di personal training body mind training di grotta ferrata via san michele 40 e io sono il dottor marco caponera laureato in scienze motorie e personal trainer questo è il mio studio di personal training come vedete qui all'ingresso c'è una sezione dove facciamo i primi controlli le prime conversazioni con i potenziali clienti dove praticamente c'è il primo contatto con chi viene a trovarci qui c'è una sezione dedicata alla documentazione alla bibliografia che riguarda gli studi che sono alle spalle di un lavoro di personal training e quindi testi di anatomia fisiologia eccetera eccetera qui come vedete entriamo nella zona di allenamento vera e propria vedete che è un open space vedete questo studio è tutto aperto e i soffitti sono molto alti per consentire una reazione adeguata quindi avere ossigeno per poi espletare insomma tutte quelle funzioni di allenamento eccetera 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 quindi è necessario avere una buona ossigenazione qui vediamo la cyclette recline che è uno strumento molto comodo per fare riscaldamento per fare esercizi aerobici e nella sua versione recline è comoda anche per chi abbia mal di schiena problematiche circolatorie e altro poi vedete i piccoli attrezzi la fitball una plio box questo è un box per fare allenamento piometrico o altre tipologie di esercizio qui c'è tutta la sezione dei kettlebell e dei pesi per i manubri e i bilancieri e questa invece è la sezione dei pesi olimpici che vengono utilizzati con il bilanciere olimpico questa è la panca qui c'è la nuova arrivata nello studio questa è la leg press verticale che è un ottimo strumento per lavorare laddove ci siano problematiche di ritorno venoso linfatico perché lavora ovviamente con non in posizione ortostatica ma clinostatica e quindi chi ha problemi con gambe gonfie ritenzione idrica eccetera soprattutto problematiche femminili può avere un ottimo aiuto da esercizi eseguiti su una pressa del genere questo è il power rack dove eseguire gli esercizi con il bilanciere ma anche con il trx e gli elastici eccetera c'è anche una sezione per i cavi quindi per fare l'allenamento con i cavi tutto integrato all'interno del power rack il power rack è molto comodo perché si possono spostare dei supporti per allenarsi in sicurezza alle spalle del power rack c'è l'attrezzo per lavorare le gambe con la panca montabile al bisogno qui ci sono una serie di elastici attrezzi vari per l'allenamento comprese le catene questa invece è che vi mostro adesso è la stanza dove andiamo a fare la bioimpedenziometria quindi da sraiati sul lettino si vanno a prendere le misure della composizione corporea attraverso la bioimpedenziometria qui invece andiamo verso la sezione dell'attrezzatura lo studio di registrazione del podcast che culo personalmente da svariati anni un podcast di divulgazione scientifica sul fitness salute benessere prevenzione eccetera e che è pensato per essere uno strumento sia per i miei clienti per accompagnarli e dargli delle informazioni aggiuntive sul lavoro che svolgiamo sia per l'utente che non si allena direttamente qui per avere delle informazioni validate scientificamente in questo ambito e sono sempre molto preziosa in più è una buona base di appoggio per realizzare anche i video che sono sempre di corredo del lavoro che svolgiamo qui nello studio ma anche per chi volesse avere delle informazioni sull'allenamento questo è il bagno spogliatorio dove il cliente appena arrivato entra si cambia e poi può direttamente accedere questa qui come vedete in questo pavimento rosso in gomma specifico per l'allenamento si accede soltanto o con scarpe pulite o con calzini antiscivolo o addirittura scalzi laddove l'allenamento lo richieda e in questa zona appunto non entrano mai scarpe dall'esterno le scarpe le persone vengono entrano vestite camminano su questa su questo tappeto vanno a cambiarsi e poi accedono allo studio questo perché per quanto mi riguarda l'igiene è sempre stato un pallino un aspetto importante che spesso e volentieri nelle palestre tradizionali manca ci si allena in ambienti utilizzati anche da altri e non sempre con il rispetto necessario ecco qui ci si allena one on one uno alla volta e quindi possiamo curare tutta una serie di aspetti poi qui vedete la panca per il lavoro posturale questa è una panca specifica per andare a lavorare in chiave posturale ed è molto molto utile la utilizzo da tanti anni e devo dire che in chiave posturale è molto comoda come vedete questo studio è stato diciamo io l'ho scelto proprio per gli alti soffitti che consentono come dicevo prima una grande ossigenazione degli ambienti e anche grandi vetrate perché allenarsi al buio sottoterra in ambienti umidi e bui non è proprio il massimo per chi si debba allenare in quei contesti io invece ho scelto di avere un ambiente molto ampio molto illuminato dove far circolare l'aria l'ambiente è condizionato quindi c'è un con ci sono due condizionatori che gestiscono sia l'umidità che la temperatura dello studio che io posso velocemente adattare alle diverse funzioni quindi in chiave posturale una temperatura più alta in chiave d'allenamento una temperatura leggermente più bassa con unità controllata per evitare di sudare anche l'anima quando ci si allena quindi come vedete ci sono tutta una serie di aspetti che al di là della cura dell'allenamento vanno anche a diciamo occuparsi del comfort d'allenamento intorno allo studio ci sono due ampi parcheggi più un terzo a circa 30 metri dallo studio e consentono anche di arrivare raggiungere lo studio senza stress senza problemi questo perché chiaramente l'allenamento deve essere uno un momento positivo della giornata non un elemento di stress ulteriore per quanto riguarda colui che vuole che chi vuole migliorare la propria condizione di salute di forma eccetera qui vedete un primo piano sul ppg il pletismografo e questo invece è lo strumento che utilizzo abitualmente per monitorare il sistema nervoso autonomo quindi oltre al ppg la già citata bioimpedenziometria poi le circonferenze eventualmente le pliche e altri strumenti ci consentono di avere un quadro molto preciso della situazione nervosa metabolica del cliente in modo tale da personalizzare in maniera specifica il lavoro che poi si andrà a fare sulla persona quindi qui non c'è un lavoro standardizzato un metodo unico che viene utilizzato per tutti ma ogni cliente del mio studio si allena in modo diverso a seconda dei suoi obiettivi e delle sue esigenze ecco qui questa è la panoramica dello studio per chi non conoscesse gli studi di personal training volesse farsi un'idea di che luogo è quello dove si allenerà se deciderà di farlo insieme a me questa è una una panoramica ci tenevo a farla perché ancora oggi dopo tanti anni che lavoro qui ai castelli romani sono stato il primo ad aprire uno studio di personal training e oggi sono ancora qui e ancora qualcuno mi chiede ma che cos'è uno studio di personal training è una palestra ecco una cosa del genere una cosa del genere ma pensata e sviluppata per l'allenamento individuale qui ci si allena soltanto una persona alla volta seguita per tutta la durata dell'allenamento dal personal trainer che sarei io bene con la panoramica dello studio di via san michele 40 grotta ferrata è tutto vi ringrazio venite a trovarci potete trovare i nostri numeri recapiti indirizzi mail sito web pagina facebook eccetera canale youtube podcast nei contatti che allegò a questo video di nuovo buona giornata a tutte e tutti io sono il dottor marco caponera laureato in scienze motori e personal trainer e questo è lo studio body mind training grazie a tutti